Ciao a tutti, benvenuti! Finalmente siamo arrivati al 6 dicembre e quindi possiamo aprire la sesta bustina. Andiamo a vedere cosa c'è dentro. Abbiamo trovato una blind deck dei Palaspets, il regno dei cuccioli. Ne avevamo già trovata una, mi sembra, il giorno 2. Noi avevamo trovato Treasure, il cucciolo di Ariel. Andiamo a vedere cosa si nasconde dentro questa. Eccoci qui pronti ad aprire. Taglio. Cerchiamo di non tagliare il contenuto, non sarebbe carino. Vediamo un po'. Wow, ma questa coda ce l'hanno proprio tutti. Non sta quasi in piedi, è tanto che è grossa la coda. Vediamo un po'. Allora, dovrebbe esserci il pettinino, perché la confezione dice che c'è sempre il pettinino incluso. Infatti, eccolo qui! Il pettinino per spazzolare la coda. Gigante, è più grande la coda. Andiamo a vedere come si chiama. sul nostro librettino. Allora, allora, allora. Vediamo. Direi che è T-Cup. Sì. Direi proprio di sì, la corona è uguale. Il fiocco sulla coda anche. Quindi si chiama T-Cup ed è il cucciolo di Belle. T-Cup è una cagnolina piena di talento e ama collezionare accessori diversi, uno per ogni occasione. Adora gli occhiali alla moda. E' un cagnolino questo. Bello. Proprio carino. Andiamo ad aprire adesso, invece, il calendario del Lego. T-Cup lo mettiamo da parte. Abbiamo aperto ieri la casella numero 20 e andiamo oggi ad aprire la casella numero 19. Cosa abbiamo trovato? Sembrerebbe un frigo portatile, è una macchinetta del caffè, qualcosa di simile insomma. Dobbiamola aprire e a costruire insieme. Abbiamo la base bianca, su cui va appoggiata questa più scura. Poi abbiamo questo qui, che dovrebbe essere una sorta di frigorifero, con lo sportellino che si apre e si chiude. Così. Sopra va messo questo pezzo liscio. Così. E a fianco questo, che suppongo essere una sorta di caraffa. Perché poi ci sono questi pezzettini qui, che sono sicuramente biscotti. Cioè, sono inconfondibilmente cookies. Chocolate chip cookies. Che vanno, va messo qui. E direi che, visto che come al solito abbiamo trovato un pezzo in più, possiamo andare a conservarlo nel nostro frigoriferino. Ciao T-Cup, vuoi un biscottino? No, grazie, sono a dieta. Con questo vi saluto e ci vediamo domani con il prossimo video. Ciao! Ciao!